...Jasmin Tessari e Francesco Fioretti, Ice Lab. ...Jasmin Tessari e Francesco Fioretti, Ice Lab ...Jasmin Tessari e Francesco Fioretti, Ice Lab. ...Jasmin Tessari e Francesco Fioretti, Ice Lab 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 Sì, 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 sì Jasmine Tessari e Francesco Fioretti 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 Punteggio per Jasmine Tessari e Francesco Fioretti La coppia ha ottenuto un punteggio di segmento di 68.42 e si trova attualmente in prima posizione In pista, Katrin Roy e Claudio Pietrantonio Sport